Riflessioni a 360 gradi in casa Taranto, al vaglio della società Rosso Blu, i diversi profili sondati per il post Montermino. Le tempistiche giocano a favore, ragion per cui la scelta sarà il più oculata possibile, anche al netto di quello che sarà il progetto tecnico. Uno sprint importante, ma forse non ancora decisivo, sarebbe stato compiuto in direzione Pier Giuseppe Sapio. Il presidente Giove, nel dettaglio, ritiene di spessore il lavoro del giovane dirigente come responsabile del settore giovanile e di lui ne apprezzerebbe soprattutto la capacità di relazionarsi con i vari club di A e B, dai quali potrebbero aggiungere, rivalo Ionio, elementi under di prospettiva. Ma non sarà, al di là del nuovo DS, un Taranto prettamente green, anzi, l'intenzione sarebbe quella di puntellare l'organico, anche e soprattutto con elementi di categoria, facendo leva sull'ossatura della stagione appena conclusa. A tal proposito si punta a trattenere sia Giovinco che Saraniti, le colonne portanti del reparto offensivo, ma anche i difensori Zullo e Riccardi. I primi due hanno un altro anno di contratto, gli altri, invece, sono entrambi in scadenza e più nel dettaglio il futuro dell'ex Lecce verrà deciso dalla Triestina, club da cui giunse in prestito lo scorso agosto. Situazione quindi ancora tutta in divenire, ma qualcosa sotto traccia si sta già muovendo.